ciao a tutti quali sono le regole base in amore al di là del fisico dell'aspetto fisico ci sono delle false credenze molte persone credono che soltanto le persone giudicate esteticamente belle possano far innamorare chi desiderano o chi vogliono molte persone credono che soltanto chi è appunto adottato fisicamente a questa capacità questa possibilità ebbene non è così anzi potremmo dire che non dico che è proprio il contrario ma sicuramente l'aspetto fisico ha un'incidenza minima nel far innamorare e nel coinvolgere le persone che interessano io che seguo diciamo diverse persone anche donne molte donne ad esempio molte donne sono soprattutto le donne belle stranamente quelle che hanno i maggiori i maggiori problemi in amore sono soprattutto le donne belle quelle che sono deluse dall'amore sono soprattutto le donne belle e quelle che vengono come dire paradossalmente abbandonate e lasciate e lo stesso vale lo stesso discorso vale per per gli uomini molti ragazzi e uomini piacevoli interessanti hanno grosse problematiche in amore soprattutto indipendentemente dall'aspetto fisico cioè l'aspetto fisico non è una discriminante anzi dovessi proprio fare una statistica direi che sono le persone giudicate belle sia donne che uomini ad avere i più grandi turbamenti i più grandi problemi in amore questa cosa è dovuto ma io credo che sia dovuto a molti fattori perché proprio le persone più belle poi passiamo al tema di questo di questo video credo che un discorso è che le persone belle hanno sicuramente una facilità di impatto una facilità nel conoscere sicuramente l'aspetto fisico comunque è una carta questo è vero in dubbio che ti dà la facilità di accesso alla conoscenza però è l'unica carta che ti dà in più perché da lì in poi appunto proprio perché persone belle sono spesso inizialmente corteggiate sia uomini che donne non hanno affinato come dire la sensibilità giusta per coinvolgere le persone per farli innamorare e così si trovano a vivere poi delle forti sofferenze perché magari vengono lasciati certo che se una donna bella viene corteggiata da un uomo che gli interessa e poi sul più bello nel momento migliore viene lasciata viene abbandonata non tanto perché magari questo va con un'altra ancora più bella ma perché proprio non vede più coinvolgimento diventa paradossalmente come se fosse una sorella e questa non si sgancia da quella situazione anziché dire con questo è andato male va già bene che sono bello accesso a me ne trovo rapidamente un altro no resta lì in quella situazione perché il rifiuto è ancora più forte perché è ovvio che come dire non è tanto esorcizzata al rifiuto per cui lo patisce, lo subisce e la coinvolge e lo stesso discorso mutatis mutandis vale per gli uomini ecco quindi che quelli sono le regole basi dell'amore la prima regola è che la bellezza non conta perché qual è il difetto, il problema dei brutti diciamo così, quelli che non sono belli che diciamo credono che non essendo belli non hanno, hanno poche possibilità di conquistare questa è una loro credenza che li porterà effettivamente a non conquistare li porterà effettivamente però la sofferenza la vivono in modo diverso perché diciamo, non so, essendo abituati tra virgolette, essendo che la loro parte emotiva ha fatto abbastanza il pieno di rifiuto, di abbandono dopo un po' si satura e paradossalmente patiscono di meno ma conquistano poco anche loro perché non sono in grado di capire non hanno capito quali sono le regole basi dell'innamoramento quali sono le regole basi della conquista e credendosi brutti si costruiscono delle credenze negative e allora non riescono poi a ottenere i risultati che vorrebbero quindi alla fine, belli o brutti, in amore si soffre tutti potrebbe essere un detto ma soffre soltanto chi non conosce le regole e chi non, diciamo, si è costruito attraverso un proprio percorso personale una, come dire, una capacità di gestire la propria emotività una capacità di gestire anche la propria sofferenza perché la sofferenza in realtà è un segnale non è un qualcosa di negativo in assoluto un po' come la paura la paura in realtà è un aiuto che ci proviene dal, diciamo, dalla nostra parte più profonda per metterci in allerta la gazzella, se non avesse paura quando il leone attacca non riuscirebbe a fuggire non riuscirebbe perché la paura è un acceleratore dei processi ti genera subito adrenalina il sangue, diciamo così, blocca la digestione il sangue va agli arti e la gazzella inizia a fuggire quindi questa paura è funzionale non diventerebbe più funzionale se la gazzella, una volta che è scampata al leone continua ad avere paura continuasse a guardarsi in giro sospettosa e magari si chiudesse, ne so, da qualche parte e non volesse più uscire andare a brucare perché ci sono i leoni in giro invece no, la gazzella fa diversamente è fuggita al leone passa la paura e ritorna a brucare l'erba come se niente fosse capitato l'essere umano non ha questa capacità qua e quindi all'essere umano che succede? che viene lasciato da una donna innamorata viene piantata sull'altare e allora, come dire, sotto shock emotivo inizia a fare delle strane equazioni e l'equazione più strana è Mario Rossi quello che mi ha lasciato è uguale a tutti gli uomini ecco, quindi la cosa peggiore che si può fare in amore è quella di generalizzare perché nel momento che generalizzi è come dire se Mario Rossi è uguale a tutti gli uomini Mario Rossi è quello che mi ha lasciato mi ha tradito, mi ha cronificato vuol dire che nessun uomo vale la pena e tanto vale, che ne so fare la mignotta e andare con tutti, ad esempio oppure viceversa tanto vale farsi suora e non darla più a nessuno ma sono entrambe scelte sbagliate perché la generalizzazione in amore è la cosa peggiore che possiamo fare eppure tutti la fanno quindi regola prima regola in amore non generalizzare smetti di generalizzare perché la generazione è sbagliata dappertutto in amore è ancora peggio perché non c'è motivo veramente non c'è motivo di generalizzare non c'è motivo di credere che una persona sia uguale a tutte le altre anzi spesso ci sono delle grosse differenze solo che tu le differenze non le vedi e poi la seconda regola in amore è che quello che ti succede quello che ti capita è perché tu te lo sei cercato quindi sembra stare a dire se una persona ti tradisce è perché tu vai alla ricerca di tradimento e se soffri soprattutto per il tradimento perché una persona potrebbe anche tradirti ma il fatto di questo tu dici beh mi hai tradito arrivo dai c'è grazie che sei visto sei visto thank you and goodbye au revoir non so e finisci la storia invece no non facciamo come la gazzella come la gazzella ci mettiamo lì iniziamo a soffrire mi ha tradita e mi ha tradito e adesso come farò qua là su giù non troverò più un altro se ti ha tradito è perché in qualche modo vogli vivere l'esperienza del tradimento altrimenti non te lo vivresti se incontri solo degli stronzi soprattutto se ti innamori solo degli stronzi o delle stronze è perché quello vai a cercare non vai a cercare a livello logico quindi per prima cosa devi tenere presente che cambia tu e cambieranno gli altri questo è fondamentale la seconda regola in amore è oltre alla prima non generalizzare la seconda è gli altri rispondono al mio comportamento ecco questo è una chiave di volta perché se tu capisci questo capisci che hai un potere enorme perché se tu credi che il potere sia delegato all'altro è già a parti distrutto già a parti perdente la cosa fondamentale è credere che è una credenza io non so però è una credenza vera secondo me è credere che dal mio comportamento che dipende il comportamento dell'altro in realtà sono tutti in interdipendenza stretta per cui è una cosa circolare ma io posso variare il comportamento e esisterà sempre un comportamento che farà scattare nell'altra persona l'innamoramento indipendentemente dall'aspetto fisico se tu vai e riesci a mettere in atto un comportamento che ricalca attraverso la gestualità attraverso il tono di voce attraverso le cose che dici che ricalca il comportamento del genitore significativo per quella persona tu ti cuccherai istantaneamente tutto il potenziale che aveva quel genitore lì puoi essere eh un genitore un bambino lo ama lo stesso non è che dice con un bambino piccolo no mia madre è un cesso no allora non lo amo mio padre è un rospo allora non lo amo così come un genitore amo comunque un figlio ogni scarafone è bella mamma sua e questo vale anche nell'innamoramento se tu sei innamorato di uno scarafone quello scarafone lo vedrai bello ma non è che lo vedrai bello perché è bello lo vedrai bello perché sei innamorato o innamorata quindi e non è che sei bello ti innamori ecco non è un processo reciproco è un processo univoco funziona in un'unica direzione se è bello avrà il vantaggio che avrà più accesso diciamo a farsi conoscere è ovvio poi diciamo la verità mostri di Loch Ness in giro ce ne sono pochi cioè vabbè ci sono voglio dire ma non però non importa ci sono anche persone con gravi handicap fisici che magari agganciano nel modo giusto cioè è più l'emozione che riesce a trasmettere poi agganciano anche magari naturalmente persone che hanno sindrome da crocerossina che si agganciano su persone problematiche questo è anche da dire no? se uno poi però noi possiamo quindi tutti possono istintivamente insomma trovare qualcuno però quello che voglio dire è che l'amore è una scienza oltre che potremmo dire l'arte dell'amore o è una scienza e noi possiamo utilizzare questa queste regole per sparare le nuvole e far piovere quando noi vogliamo che piova quindi far innamorare quando noi vogliamo che l'altra persona si innamore quindi la regola è che dal nostro comportamento dipende se seduciamo o se non seduciamo quindi cosa fondamentale è fare dei test variare il proprio comportamento variare il comportamento cosa significa? beh che una persona potrei comportarmi ad esempio in modo materno protettivo oppure potrei essere un po' più dirompente offensivo potrei utilizzare mentre parlo un linguaggio di questo tipo e rendermi conto che su un linguaggio di questo tipo che corrisponde analogicamente a una sgridata perché io non ti sto sgridando ma se quando parlo del tempo uso un linguaggio di questo genere le persone che mi ascoltano vivono un'emotività come se fossero sgridate alcune si agganciano altre non si agganciano ecco qua mi dice la teoria la costo Elena Elena Napoli la teoria la conosco bene ma non riesco a mettere in pratica beh certo perché non si riesce questo qui è la parte dopo perché non si riesce a mettere in pratica quindi il tuo comportamento se tu lo vari se hai la forza di variarlo riuscirai a sedurre e riuscirai a coinvolgere perché non riesci a farlo perché si è pilotato dei tuoi problemi quindi questo per rispondere Elena Napoli che mi scrive e la Cotterio riconosco bene ma riesco a mettere in pratica perché i tuoi problemi ti governano e i tuoi problemi dovresti imparare a farli diventare una supposta e infilartela su per diciamo il luogo dove si infilano le supposte significa che i tuoi problemi devi eliminarli altrimenti per legge l'attrazione attrarrai chi amplifica i tuoi problemi per legge l'attrazione attrarrai chi amplifica le tue paure perché vedrai il mondo come una lente di ingrandimento delle tue paure delle tue insicurezze delle tue debolezze e questa lente di ingrandimento sarà quella che ti farà percepire gli eventi e ti farà vivere appunto delle situazioni di sofferenza una persona mi dice a me fai solo incazzare se alzi la voce e beh dipende certo io adesso sto parlando in questo modo però potrei anche parlare in questo modo e questo modo invece questo tono di voce è molto più rassicurante e è un po' come dire la coccola che la mamma fa al bambino a livello di paralinguistica ci sono persone che si agganciano persone che non si agganciano quindi è ovvio che se tu hai a che fare con tante persone ad esempio conviene fare due passate di vernice una di un tipo l'altra dell'altro tipo però è anche il comportamento poi quanto devo tenerti sulle spine che grado di disponibilità devo darti che grado di disponibilità devo darti ognuno di noi si aggancia su un certo grado di disponibilità ci sono persone che si agganciano su una disponibilità al 10% ad esempio perché quello mi sono stato da bambini allora cosa vuol dire che sul mio 100% di tempo che posso dedicare a te ti tengo agganciata se te ne dedico 10 e se l'altro 90% del tempo mi faccio gli affaracci miei come dire e ti dico non voglio vederti non mi stare sulle scatole levati dai piedi sono persone che le seduci in questo modo uno dice ma non è possibile eppure è possibile ci sono persone che le seduci in questo modo altre persone che invece hanno bisogno proprio di una coccola un senso di protezione il dirgli tu sei la solita scema ma non ti preoccupare ci sono qua io che faccio le cose al posto tuo e dice ma sì altre si agganciano in questo modo quindi verranno a tuo compagno perché se tu ogni volta che sei coinvolto e quindi qui si ritorna un discorso di piacere e sofferenza inizi tu a stravolgere la capacità di vedere il mondo inizi tu a diciamo a fare le cose sbagliate perché nel momento in cui uno è coinvolto nel momento in cui uno è innamorato tende a fare sempre le cose sbagliate fondamentalmente e quindi ci deve essere un meccanismo dentro di te che ti permette di renderti conto e quindi qua torniamo all'utilizzo consapevole dei meccanismi di difesa innamora devi utilizzare un'altra regola consapevolmente del meccanismo di difesa il meccanismo di difesa non vuol dire siccome le donne sono tutte traditrici non vado con nessuna oppure vado con tutte me ne fotto il meccanismo di difesa vuol dire è la capacità di saper gestire la propria emotività e capire quando sto canalizzando l'emotività su una persona cioè sono io che sono io che decido quando coinvolgermi e quando no perché io sono padrone delle mie emozioni e se decido di decoinvolgermi mi decoinvolgo seduta stante e abbiamo questa capacità noi perché come la parte emotiva ci può far venire le magagne cioè una persona si becca una fobia da un giorno all'altro così la parte emotiva ti può far decoinvolgere o coinvolgere da un giorno all'altro ma questo interruttore devi imparare a schiacciarlo tu quando desideri perché se l'interruttore si schiaccia da solo allora come dire ce n'hai già 20 cm dietro se non di più e questa è una cosa fondamentale quindi la regola questa regola dell'amore è una regola basilare ovviamente l'altra regola dell'amore è che non si deve mai chiedere perché il momento in cui tu chiedi ti metti in condizione di essere come dire peggio di fantozzi davanti al direttore generale loopman fieldput è uguale e non devi mai chiedere devi offrire tu seduci se off devi diventare uno spacciatore soltanto che anziché spacciare droga spacci emozioni e le persone che vuoi far innamorare devono diventare i tossici i tossicodipendenti di emozioni questo è diciamo un qualcosa ah intanto saluto Pink Power alias Dominic che ha vinto il corso gratuito e che mi ha scritto su Whatsapp per cui beh poi farò un video per dire comunque è certificato che Pink Power ha vinto un corso ecco quindi in questo in questo modo noi dobbiamo capire che gestire la propria emotività significa venire a patti con con se stessi con quella parte più profonda e quindi dargli dei contentini dargli delle polpettine dargli emozioni insomma a noi stessi dobbiamo imparare a sedurre noi stessi la persona fondamentale da sedurre è veramente la nostra parte emotiva perché se seduci la tua parte emotiva avrai tutte le possibilità di decidere quando innamorarti e quando no e nel momento in cui soffri avrai la possibilità di disinnamorarti perché dentro di te avrai un alleato come dire come entrare in una stanza dei bottoni e iniziare a premervi i bottoni giusti e come fare a fare tutto questo ebbene questo è un processo di consapevolezza di se stessi che va fatto è un processo di iniziare a regalarsi delle emozioni ci sono anche degli atti proprio detti atti rituali atti cerimoniali che ci permettono di fare o atti psicomagici fare delle cose che ci diano forte emotività in modo deliberato e consapevole pur ad esempio somministrandosi il rifiuto ho paura del rifiuto bene me lo procuro io non c'è problema anche la parte emotiva ti do una valanga di rifiuto me ne va dal primo centro commerciale che trovo ci provo a nastro con tutte a dire le cose le prime cose che mi vengono in mente ma non con l'obiettivo di conquistarle con l'obiettivo di farmi mandare a cagare perché ogni volta che mi manda a cagare io godo come un riccio perché la mia parte emotiva si fa un bel pieno di emozioni vuol dire ribaltare completamente la situazione ogni volta che mi abbandono io dico ah che bello oggi mi ha abbandonato adesso posso godermi finalmente questo patos che viene fuori anzi guarda domani mi faccio riabbandonare di nuovo così mi ribecco altre emozioni e tu ora prova a ragionare in questo modo vedi che la tua parte emotiva dopo un po' non ti farà più abbandonare da nessuno anzi si appiccicheranno a te come dicono in Liguria come le piattelle che sono quelle specie di come le licozze lì un po' più piccole come le piattelle si attaccano agli scogli ecco dicere provaci Francesca con i commessi di Auchan vai lì ci provi con tutti e magari questi poi ci stanno però voglio dire nel momento in cui ci stanno li mandi a cagare tu così continua a viverti il rifiuto ed è la cosa migliore e quindi a quel punto lì stravolgi il tutto ogni cosa negativa diventa subito positiva ti ha abbandonato beh veramente sono proprio contento di questo abbandono che mi sta dando questa emotività e vedrai che la tua parte emotiva capisce subito che capisce subito che come dire da te puppe emozioni e non vorrà più perderti non vorrà più assolutamente perderti e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi perché dove lo troverà un altro che gli dà tutte quelle emozioni lì quindi il processo di seduzione verso se stessi è la cosa più importante che noi possiamo fare e quindi questa è un'altra regola fondamentale dell'amore quindi l'amore è una scienza non è un'arte è proprio una scienza noi possiamo studiare nei micro dettagli cosa fare quali sono le leve per coinvolgere per fare l'amore se ci interessa ovviamente perché poi uno può dire non me ne frega è proprio una mazza e allora quello è un altro film bene adesso saluto tutti anzi The Miracle of Love lo saluto non so come si chiama però mi dice di salutarlo e lo saluto e quindi detto questo vi dico di iscrivervi al canale perché oltre alle altre estrazioni dei videocorsi ci saranno a 40.000 iscritti le estrazioni di 10 sessioni gratuite di riequilibrio emozionale con me quindi iscrivetevi al canale ciao a tutti